Diciamo che il mister e la squadra ci stanno regalando dei bei momenti, io quando insieme a mister Nicola e lei abbiamo fatto questa squadra sapevamo che era una squadra di gladiatori, una squadra che avrebbe messo sempre il cuore in ogni partita, ovviamente siamo contentissimi e speriamo che in questo momento continui ancora per tante partite, però siamo tranquilli e sereni delle nostre forze e che potranno anche arrivare dei momenti difficili, siamo un gruppo unito e lo dimostreremo anche in quelle situazioni. E' sempre dura questa squadra, ci mette sempre in molta difficoltà perché sono squadre delle tosse, delle bergamasche, del pampello, una di queste, però fortunatamente quest'anno siamo riusciti a sfatare anche questo tabù. Il merito, io dico sempre, parlo sempre con il mister tutte le settimane, il merito è suo, il mister è arrivato qui in punta di piedi, sta facendo un gran lavoro, i ragazzi li conoscevo perché tanti hanno giocato con me, so quello che mi possono dare in campo, so quello che possono dare fuori dal campo, però in questo momento c'è da fare i complimenti al mister perché ci sta dando quella spinta in più che negli altri anni non abbiamo avuto. Sono due ragazzi che hanno giocato penso la prima partita, se ne non la seconda e si è visto tutto il campo che non... con difficoltà perché siamo incelottati, abbiamo fuori Cortinovisi, di un giocatore importante, ma tutti si adattano alle esigenze della squadra, Brognoli ha fatto il terzino, Pippo Corti il capitano esemplare fa, si abbassa sempre a fare il difensore centrale, Battaglino ha fatto il centrocampista centrale, è una squadra che è plasmata, c'è la forza che aveva il mister quando giocava e la forza del mister che è un ottimo allenatore, lo sta dimostrando anche a Sesto. Questa domenica non abbiamo giocato bene, ci vuole più cattiveria, come diceva il dirigente prima, siamo a Bergamaschi e dobbiamo tirare fuori gli attributi dei Bergamaschi e purtroppo in questa partita non sono venuti fuori, c'è da lavorare, lavoriamo sodo, mettiamo giù il testone e andiamo avanti. Il risultato è giusto, sì, perché la Pro Sesto in dieci ci ha dato dei grattacapi e in alcuni momenti hanno giocato anche meglio di noi, che eravamo in undici. Ci ho detto anche quando abbiamo perso che giochiamo sempre per vincere, per provarci almeno. Ho detto con il Monza che ci saremmo preparati per essere competitivi e lo siamo stati, dunque abbiamo mantenuto la nostra promessa e devo dire che questa è una vittoria che è stata soffertissima, mi dà tanto gusto perché la squadra ci ha messo molto cuore, sempre spinti molto anche dal contesto dello stadio che ha aiutato anche i ragazzi, ma abbiamo vinto con i ragazzi della Pro Sesto, mi vorrebbe da dire, questo mi ha fatto piacere perché i giocatori che già prendi meno poi alla fine si sono fatti trovare pronti e hanno fatto molto bene, quindi da un passo in avanti anche sotto questo punto di vista sono soddisfatto. E ha fatto l'ingenuità, vizio che ha scivolato, ha perso l'equilibrio, non doveva farlo perché mettere pentaglio tutta una partita, anche se noi, anche nel secondo tempo, soprattutto nel secondo tempo ci siamo magari molto più vicini noi al 3-1 che non ha il potenziale ovvio. Dunque la squadra ha dimostrato di avere comunque sempre una caratteristica di gioco importante, grande carattere, oggi grande disponibilità, veramente anche gli attaccanti, tutti, siccome veramente tutti sbattuti. Tutti, non riuscirei a fare un nome su un altro che sarebbe un'ingiustizia, la squadra veramente voleva vincere, voleva dimostrare di essere ancora viva, e lo è, ma quando dico che abbiamo vinto con i ragazzi della Pro Sesto, non sto facendo i nomi, ma sto dicendo che abbiamo giocato qui nel nostro vivaio, che vogliamo valorizzare, ne abbiamo altri, ha già giocato anche FAU, hanno giocato piano piano tutti ruotando, con grande successo, dunque questo è molto importante, che giochino, ma che giochino bene, non che giochino tanti perché debbano giocare. Noi dobbiamo vincere il partito, perché i meriti e i meriti vanno sempre divisi con tutti. Vedo che tutta la società, tutta, sta lavorando bene, stiamo cercando di dare tutto quello che serve ai giocatori, e questo è molto importante. Stiamo facendo risultati, detto questo, alla sesta giornata non posso dire dove arriveremo, noi dobbiamo fare 45 punti veloce, ma quando arriveremo a 45 punti vedremo se facciamo ancora divertirci o se il nostro campionato dovrà essere contattato. Io spero di non ripeterlo più perché non vorrei diventare annoia, con questo dico che sognare nel pubblico, dalla tifoseria, sognare non costa nulla, giusto che loro ci diano quello con lo slancio, che ci motivino a fare sempre meglio, e cosa ho detto una fine gara? Per battere la Pro Sesto bisogna fare una partita eccezionale. Noi siamo tosti, dunque bisogna giocare bene e noi siamo che ci facciamo trovare pronti sempre. La partita Pro Sesto non muore mai, dunque finché la partita non finisce abbiamo la speranza di poterla iniziare.